alzati Simo, alzati, c'è l'ho, stai, lavora a rombo basta giusta, uscita, giusta forte Matti, vai, torna oh, scivola, scivola Simo, vieni a darci una mano, corri con lui bravo, bravo, bravo bravo, bravo, bravo scivola, dai scivola, dai bravo, bravo bravo, uscita, veloce 3 contro 1 e gioca là bravo, bravo bravo, bravo bravo, bravo bravo, bravo bravi, molto bene bravo, bravo ora e mi riapro mi riapro vai via via e ora non esce ora via vai laura vai laura vai laura vai laura oh ho seguito Daniele ancora Martione ti passa bravo Lorenzo, chiudi non c'è spazio no, troppo spazio chiudi la lalla, vai a riempire ribalta, veloce uno preso Mattia, ribalta la veloce bravo dai Matti, dai raga, su prima Matti più opposto va bene Mattia, va bene, mi piace capri, capri stai sulle capi stai sulle capi vai a riempire 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 Mattia, corri con i narizzi vai a riempire vai Giorgio, bravo chiudi la Matteo rapido eh Gabri, mi devi fare un passo indietro e fuori per incontro lalla, lalla carico si si lalla romano bravo 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 si raga questa pressione era per uscire due uova due uova due uova due uova due uova Matti ha fiscato Matti raga se esci dalla veloce Cristiano si va andare in porta oh oh ricomponi ricomponi Dani davanti a lui non indietro la porta e calcio dai 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 con te fuori scala 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 Grazie a tutti.